dopo dopo il video mi comprometti un successo strepitoso mi fermo una per strada a chiedere come la state vivendo questa notorietà non lo so io sono molto contenta molto emozionata e non mi ha mai cagato così tanto nessuno nella vita grazie come fate a tenere lontani fan dunque adesso ci stiamo organizzando per proporre a tutti dei giri in barca con noi e automaticamente si allontanano tutta questa fama che vi è arrivata dopo il canto natale come riuscite a convivere non è facile non è facile però d'altronde quando uno diventa famoso deve sopportare anche questo bisogna metterlo in conto la tua vita privata diventa leggermente pubblica ma hanno detto che ci sono mi fermano per strada che gli autografi autografi sì 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 quelle sono le famose ragazze ci sono anche infanzia è bellissima vedi vedi non riesco proprio a tenermi a barca un problema è un problema abbiamo dovuto comprare un tagliacode e piano piano cercheremo di smaltire tutti gli autografi però che hanno scoperto il tuo indirizzo di casa e vengono a citofonarti a casa è vero ma c'è Iena che mi difende ma come riuscite a gestire questo successo che è arrivato dopo il video shock di a natale poi allora ci ha già contattato un agente perché chiaramente dobbiamo curare la nostra immagine dal punto di vista del look siamo perfette però qualche problemino di indizione penso no ma il problema più grosso è che gli altri hanno detto che hanno avuto problemi nel gestire proprio i fan cioè per esempio a Claudia li citofonano a casa perché loro abitano al centro io abito in periferia e non mi hanno ancora trovato e quando passeggi per le vie del centro? io devo andare domani mi saprò dire